e Mirella Gregori. Nel periodo della scomparsa di queste due ragazze, tra cui la nota cittadina vaticana, ci sono altre ragazze molto giovani che sono scomparse. C'è uno studio realizzato dall'avvocato Walter Biscotti che da anni si occupa di casi risolti, uno studio commissionato a Neuro Intelligence di Franco Posa, che con una sua collaboratrice, la dottoressa Jessica Leone, ha scoperto qualcosa di sorprendente relativamente al caso di Emanuela Orlandi. In un raggio massimo di due chilometri e mezzo dalla città del Vaticano, tra il 1982 e il 1983, sono scomparse ben sei ragazze, tra cui Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. L'età media di queste ragazze va dai 15 a 18 anni. Se estendiamo il raggio a 5 chilometri dalla città del Vaticano, tra il 1982 e il 1983, il numero di ragazze scomparse sale a 15. Età media tra 15 e 18 anni. Tenendo dunque l'arco temporale molto ristretto tra il maggio e il giugno 1983, troviamo 16 ragazze scomparse con un'età media di 15,6 anni in un raggio massimo di 14 chilometri dall'ultimo luogo in cui è stata vista Emanuela Orlandi. Andando a incrociare questi dati, nello stesso lasso di tempo, maggio-giugno 1983, scopriamo che in un raggio di 5 chilometri dalla città del Vaticano, luogo di residenza di Emanuela Orlandi, sono scomparse otto ragazze, delle quali si conosce l'identità. Oltre a Emanuela Orlandi e Michele Gregori di 15 anni, troviamo una ragazza di 16 anni scomparsa da via Piave. Poi ci sono i casi di una 15enne, una 18enne, tre 16enni, una 17enne, un'altra 15enne scomparsa da via Trionfale. 17 anni circa, un'altra ragazza scomparsa dalla zona Celio, dalla quale scompare anche una ragazza di 14 anni. 17 anni, una ragazza scomparsa dal Quadraro, sempre in zona Celio. 16enne scompare, così come un'altra 14enne. Bisogna sottolineare che in quattro casi il luogo di scomparsa coincide con il commissariato che indaga e che non necessariamente è l'effettivo luogo della scomparsa. Qualcuno ha sottolineato che un raggio di 5 km, che a noi può sembrare poco, in realtà in una zona come quella attorno al Vaticano stiamo parlando di tre quarti dell'area metropolitana di Roma, che è la terza più estesa e più popolosa d'Europa e quindi sarebbe una statistica con scarso interesse. Noi riteniamo invece che sia di molto interesse, perché anche se stiamo parlando di una zona di Roma e della città del Vaticano, sono veramente troppe le ragazze giovanissime che sono scomparse. Che fine hanno fatto? E si è parlato della Orlandi soprattutto perché era cittadina vaticana, altrimenti non avrebbe avuto lo stesso risalto e sarebbe caduta nell'ublio come le altre 14, visto che anche di Mirella Grigori almeno un po' se ne è parlato. Che cosa esisteva allora? Che fine hanno fatto queste ragazze? Ragazzi abusate e qualcuna di loro magari voleva parlare? Poteva parlare, si poteva escludere che dopo un anno o due anni non parlava, le avrebbero uccise comunque. Perché quanti minori spariscono? Poi da grandi parlano. I ricattati, per essere sicuri che la cosa non venisse fuori, volevano vedere, avere nel Romolo Mani la Orlandi e forse anche l'altra ragazza e forse chissà quante altre, perché quell'anno, come dice il giudice che se ne è occupato a suo tempo, sparirono un sacco di ragazze a Roma e non si sa che fine hanno fatto. Quella di Orlandi è diventata più forte perché lei stava in Vaticano e quindi c'era un'attenzione enorme, ma altre sono sparite così. Se io sono ricattato è solo un fedente, diciamo, no? La corrente Marcinkus e compagni, no? Sto d'accordo con la mafia, con quell'altro. Come faccio ad essere sicuro che questo ricatto non venne fuori? Ti do la ragazza, ti do le ragazze, puoi farne quello che ti pare.